Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco se preferite e benvenuti al nuovo video. Oggi affronteremo la seconda parte, come vi avevo promesso, del video riguardante i personaggi collegati a Cooler e agli suoi due eventi. Nella scorsa abbiamo affrontato soprattutto quelli inerenti a Strongest Rival, oggi invece penseremo proprio a quelli di Metal Cooler. Allora, iniziamo proprio dalla carta più gettonata dell'intero pool, Metal Cooler SSR. Allora, siamo davanti a una carta che nonostante quello che può sembrare sarà molto più utile di quanto credete. Le statistiche sono abbastanza alte, soprattutto attacco e difesa che ha ben un 4420, a discardo purtroppo di degli HP molto bassi. La sua leader skill, come potete vedere attualmente sul globale, è tra le migliori. Un bel bonus di 2 chi a tutti quanti. Scusate, non siamo ai livelli di skill di Gohan Mistico, però siamo comunque davanti a una signora carta. La special non è nulla di che, causa molti danni, però non ha effetti secondari. Andiamo adesso a vedere la passiva. La passiva potete capire da soli che è davvero grossa. Aumenta del 25% l'attacco di tutti quanti. Può non sembrare, ma un 25% in più in certi team può cambiare davvero. Prende anche quei personaggi che magari hanno poco attacco e sono sulclassati d'altro, ma hanno buone passive, fattibili di essere giocati. Inoltre stiamo parlando degli int. Attualmente in int non abbiamo personaggi che picchiano peso. Lui permette anche a personaggi int con poco attacco di diventare delle belve. Andando invece in Link Skill, presenti nuovi Auto Regeneration, Fusion e Deficit Boost che ora vi andrò a illustrare, seguiti dai soliti del clan di Cooler e di Freezer. Allora, cosa possiamo dire di questa carta per l'illustrarvi questi tre skill? Carta buonissima, nonostante statistiche che potrebbero non essere le migliori. La sua vera potenza la troveremo molto probabilmente contro Cell. E attualmente è la carta che ho utilizzato io fino all'uscita di Gogeta nel Giappone per farmare Cell. Quel più due di chi sarà vitale per riuscire a fare il team che vi porterò. Anche il 25% di attacco in più vi garantirà un aumento di danno molto considerevole. Nei Link purtroppo penerà, avrà davvero poche cose che linkeranno, a meno che non abbiate anche il Cooler Int Wear che vi ho fatto vedere nella scorsa recensione. Siamo davanti a una signora carta che chi avrà potrà dire di avere un vantaggio non indifferente su Cell. Nonostante non sia l'Int Wear leader migliore da usare contro di Cell. Ce ne sono altri due che secondo me potrebbero essere anche migliori di Cooler. Ma Cooler comunque rimane un ottimo supporter e un ottimo leader. Carta totalmente promossa. Vi ricordo che per evolverlo saranno necessarie le sue medaglie. Quindi anche facilissimo da portare a UR. Nient'altro. Che altro posso dire? Ah sì, purtroppo non potete aumentare l'SA da negli impasto di altri Metal Cooler. A nessun Metal Cooler potete dare impasto a altri Metal Cooler per aumentare l'SA. Cavolata, secondo me anche un 5% andava bene, ma hanno deciso così. Carta promossa, chi ce l'ha se la tenga stretta. Andiamo adesso velocemente a vedere i tre nuovi. Auto Regeneration e il resto. Che se non sbaglio dovrebbero essere tutti i tre nuovi. Potrei dire cavolate. Aspera si caricano. Facciamoli caricare. Allora ecco. Deficit Boost solo sui Cooler da un più 15% d'attacco. I Team Total Cooler o i Team Cool li potrete fare molto facilmente se avete lui. Non sono nulla di che. Ma hanno abbastanza alti di rigenerazione HP e di aumento Khi. Una squadra simile con due Metal Cooler come leader e i 5 cinnetti riuscirete ad avere facilmente un bel po' di Khi. Poi abbiamo... Che neanche si è messa. Ottimo, felicità. Era Auto Regeneration, no? Auto... Ecco. HP più 3%. Intende un recupero di HP del 3% per ogni link. Quindi si tratta di almeno un 6% a turno che va in un team completo. Non è male, non è male. Non è affatto male. Divertente da usare. Ecco Fusion. Più due Key. Fusion dovrebbe essere anche la stessa che avranno Gotham, Subjeta e gli altri. Tuttavia io ce li ho nel JAP, quindi non so se i nomi sono gli stessi e non ho mai avuto in uno stesso team lui e Gogeta. Quindi non so dirvi di preciso. Vedremo nel momento in cui escono. Andiamo adesso a un'analisi dei 5 Metal Cooler. Iniziamo da quello Int. Oggi la connessione va davvero male. Allora, Metal Cooler Int. Primo dei Metal Cooler. Le statistiche saranno più o meno simili per tutti. Questo presenta queste statistiche abbastanza norme nella media. Niente di che. Leader Skill evitabilissima. Niente di eccezionale. Soprattutto nell'ottica che ormai iniziano ad uscire molti. Key più due, key più tre e altro. Special nulla. Ecco. Passiva molto buona da utilizzare in team zombie o altro. Un team totalmente di Metal Cooler. Riduce di molto il suo attacco ma presenta una recovery altissima. Ricordatevi prima abbiamo detto un 6% a turno. Aumenta di un altro 5%. Fuori da un team Metal Cooler non è consigliato. Come anche tutti i Metal Cooler, ve lo dico subito. I Metal Cooler ottengono il massimo in un team incentrato su di loro. Fuori. Forse se non ricordo male 1 o 2 sono decenti ma molto poco. Nonostante stendere possono essere anche carine. Peccano in passiva e peccano in leader. Passiamo al successivo. La GL. Intanto metto in carico dato che si sono scaricate gli altri 4. Ecco. Metal Cooler è la GL. Più attacco del precedente. Statistica comunque nella media. Scusate. Stessa leader skill. Ecco. La passiva di questo invece inizia a essere un pochino più interessante. Con più del 5% di HP dai a tutti quanti più un ki. Passiva carina. Ma purtroppo il più uno difficilmente davvero consistente come cosa. Permette però a questo Cooler di essere giocato un pochino come supporter anche in dei team AGL che non hanno tutto quanto. Come al solito i Link sono forse 2 contro Metal Cooler tra Brutal Bet Now che vediamo immediatamente quali sono le altre carte che ce l'hanno. Praticamente tutti cattivi detta come va detta. Ah non avevo messo lui. Andiamo a vedere anche lui. Ok. Prostimo Metal Cooler. Il tech. Il tech. Statistiche un po' più basse degli altri Metal Cooler. Stessa leader. Stessa special. Ecco. La passiva inizia a essere interessante. Anche questo Metal Cooler poi si è usato come supporter. Contro nemici AGL. Riduce l'attacco del 20%. Non è un gran che quando è una passiva perché nel migliore dei casi ti capita ogni due turni. Ma comunque unita da altre passive, di altri leaders, di altri personaggi che già riducono l'attacco, può dire la sua contro molti nemici. Punto debole. L'attuale 40 stamina GL il problema non è quanti danni ti fa. Cioè è anche quello il problema ma non è la cosa vitale. Quando ci arriveremo ve lo spiegherò comunque. Anche lui fu dal meglio in un team Metal Cooler. Fuori fa quello che può. Può essere credito come supporter in un team verde ma niente di eccezionale. Metal Cooler forza. Statistiche nella media anche lui. Niente di eccezionale. HP basso. Stessa leader. Stessa super. Ecco. Questo è quello che può essere più utilizzato come supporter. In quanto mette attacco e difesa il 10% a tutti. Molto buono. Si parla comunque di 6-700 punti sia d'attacco. E sui 3-400 punti di difesa alla squadra. In squadre medie diciamo. Molto buono. Statistiche decenti. Link che purtroppo come avete già visto non sono un granché. Ma comunque giocabile. Senza problemi. Se dovete scegliere. Se non avete tanto tempo per farmare un Metal Cooler. Farmatevi questo. Cioè se trovate solo questo e poi non mette tempo di prendere gli altri. Accontentatevi. E comunque il Metal Cooler migliore. Con la passiva migliore che potete trovare. Ultimo Metal Cooler è quello fisico. Statistiche alte. Stato giro dovrebbe essere Metal Cooler. Con le statistiche più alte tolta la difesa. Stessa leader. Stessa super. Ecco la passiva. Abbiamo già affrontato questa passiva in un altro video. Il recover di una percentuale. Nel video del torneo su Dracula. Qua è un po' migliorata ma siamo ancora a livelli bassi. Un 15% del danno è davvero poco. A meno che non lanci la super in un team che l'ha pompato molti. Noi stiamo parlando di un fisico. Quindi gli HP avrete. Non saranno tanto quelli il problema. Metal Cooler io non reputerei tra i peggiori. In seconda solo a quello che recupera il 5% di HP a turno. Che è dell'attributo sbagliato. Se fosse stato AGL. Quello andava da dio. Perché andava in combo con Kid Buu e altri. Carta comunque interessante. Non è obbligatorio avercelo. Il migliore comunque è il Forza. Rimanendo sempre nelle carte cattive. Diciamo c'è la carta che potete ottenere dal primo stage. Se non erro. La guardia ciclopica. Le statizie sono pessime come vedete. Però è sempre una R. La leader all'inizio è utile. Un 10% di meno di danni non è mai male. Super non la calcoliamo. La passiva comunque. Più mille di difesa a tutti. Come passiva se siete davvero agli inizi. Non avete un team fisico. Nessuna agli inizi ha un team fisico decente. Anche nel JAP. Fai fatica ad avere un team fisico decente. Purtroppo. In quanto le carte fisico decente. Sono davvero risicate. Anche l'LR fisico. È meglio l'LR alternativa. Per farvi capire. Comunque. Carta decente agli inizi. Può dire la sua. Contro gli INT. In team fisico. Mi permette di ridurre di molto i danni. Perché la difesa non serve. Proprio il fatto che siano così basse. E altro. Un più mille. Dovrebbe fare dei cambiamenti decenti. E tutto. Carina. Non state a farmarvela. Tenetevene una. Teneteva lì da parte. Servirà qualcosa. Prima o poi. Passiamo adesso ai due Super Saiyan nuovi. Abbiamo Goku. Abbiamo Goku. Che finalmente è una carta fisica decente. Come dicevo prima. Di fisico decente. Purtroppo non ce ne sono. Adesso ne abbiamo. Abbiamo la prima fisico davvero buona. Dopo Mystic Gohan. Un Super Saiyan. Questo giro con Golden Warrior. Quindi non sarà un Super Saiyan penoso. Come è stato Broly. Ho fatto dei link. Ho fatto le statistiche e abilità. E' buono Broly. Come ho già detto. Però nei link era pessimo. Allora affrontiamolo. Statistiche ottime. 4200 di difesa. E' alta. Attacco. Un po' bassotto. Ma ci può stare. HP alti. Leader skill. La solita. Attacco più 25% a tutti. Classico leader da team Marco Baleno. Super. Ottima. 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 per qualsiasi boss. Boss. Intelligenza. Lui potrebbe molto probabilmente essere. Uno dei cardini nella battaglia contro Janemba. Dato che Janemba è Inter. Avere lui può darvi come supporter. Sarà molto utile. Il fatto di poter bloccare. Per un turno o due. Ogni sua mossa. Come imparerete contro Cell. Sarà vitale. Ottima skill totalmente promossa. Passiva. La passiva ha qualche piccolo problema. E' molto forte. Un attacco a difesa più 3000. E' gigantesca come passiva. Però HP dell'80% più. E' da utilizzare al primo turno. Dopo il primo turno potrebbe facilmente scendere. E' non attivarsi più la passiva. Vi ricordo che passiva come queste funzionano. Se all'inizio del turno avete quel valore di HP. Non si è attivato un senso. Se è attivato un senso e tornate al 100% non ha effetto la passiva. Link ottimi. Golden Warrior. Super Saiyan. Zeta Fighter. Preparati per la battaglia. Carta gigantesca. Buonissima. Attualmente. In fisico. Io lo reputo secondo unicamente. A Gohan. Ma solo perché Gohan. E' molto più utile e versatile. Ci sono tante carte che danno il più 25% di attacco. Migliori di lui. Con Super Saiyan 3. Con Super Saiyan God. Ma di. Che danno più 2 ki. Iniziano ad uscire adesso. Ma migliori di Gohan. Attualmente c'è solo Tars. E' un team. Quindi. Comunque secondo a Gohan. Nonostante tutto. Anche perché la super. La passiva di Gohan. La risulta migliore. Sperdiamo comunque dal team che vi state facendo. In un team fatto bene. Solti la forse anche più utile di Gohan. Quindi dipende da voi. Passiamo all'ultima carta nuova. Ovvero il nostro caro Vegeta Super Saiyan. Una SR Tech di Vegeta. Classica. Un leader che lascia il tempo che trova. E il suo HP attacco di due colori. Aumentare il 20%. Lui non lo userete come leader. Le statistiche sono buone. Sempre difese altissime. Sto notando. Ma niente di eccezionale. Super. Niente di strano. Abbiamo sempre un'abilità che si attiva con l'80% più di HP. Quindi da utilizzare all'inizio. Sperate di non avere Vegeta al secondo turno. Cercate di studiarvi la posizione del team. Quindi mettono tra i primi tre. Che di solito, salvo rari casi, sono sempre i primi a combattere. Ovviamente il ki di due. Non è male. Non è affatto male. Partire subito con un 2 di ki può cambiare le cose. Però non è niente di eccezionale. Link ottimo invece. Lo rendono una delle carte serie. Con i link migliori. Golden World, Super Saiyan. Preparata la battaglia. Prodigio. Poi Saiyan War and Race. Ma quelle ormai ce l'hanno in metà delle carte del gioco. Ottimo davvero. Un team Super Saiyan. In ottica torneo. In ottica farming. Arcobaleno. E altro. Grande carta da usare. Nonostante che non abbia statistiche perfette. Abbia una passiva un po' situazionale. Che però finché non si farla ancora antastamina. Un Raid Boss Z-Hard. Va benissimo. Promosso in un team Arcobaleno. In un team Tech. Se non è un team Super Saiyan Tech. Che attualmente non penso sia fattibile nel global. Lasciate perdere. Utilizzate altri Vegeta Super Saiyan. Comunque ce n'è anche uno SSR. Che è meglio di questo. Comunque te lo trovo stretto. Non è da buttare. Con questo abbiamo finito l'analisi dei personaggi nuovi. E abbiamo finito del tutto i video inerenti a Cooler. Salvo che voi non ne vogliate altri. Quindi vi ricordo di visitare la pagina Facebook. Che potete trovare in descrizione. Se avete domande potete farle qua. Su Facebook. Dove preferite. Per richieste di video. Richieste di chiarimenti. Delle analisi più specifiche anche. Oppure se c'è qualcosa che vorreste vedere in azione. Quindi team. O 3H. O 2. In realtà il terzo è ancora in formazione. Ma se riesco ad avere quelle carte. Ve lo mostro anche un team formato. Per qualsiasi richiesta. Quindi sapete dove andare. Con questo il video è finito. Vi auguro buona giornata. Alla prossima.